e della fortuna e del significato pedagogico politico della storia della rivoluzione fascista. Tra le altre cose la storia della rivoluzione fascista è sul nostro tavolo ma io credo che ancora oggi chi si approccia allo studio del fascismo, prima o poi gli studenti che studiano per la prima volta il fascismo, che fanno delle tesine sul fascismo, io immagino che ancora abbiano a che fare con quest'opera. Ora, oramai 25 anni fa, io ricordo che per la mia prima tesina di storia contemporanea sul fascismo avevo 19 anni, il mio primo maestro dell'epoca era Vittorio Vidotto, che insomma aveva una formazione bella impegnativa, mi obbligò giustamente a lavorare anche sulla storia della rivoluzione fascista di Chirco, per cui gli storici della mia generazione hanno utilizzato questo libro come punto di partenza, per uno studio del fascismo. La genesi di questa opera, così come è stata ricostruita da Michelangelo, mette molto bene in luce come lo stesso Chirco sia inseribile in quella categoria che in un mio lavoro sul rapporto fra Mussolini e la storia io ho definito categoria del presente storia. C'è una categoria generazionale che con in primis Mussolini, soldato della Grande Guerra, fu composta da più o meno giovani che erano stati protagonisti degli eventi in atto, eventi che venivano vissuti, agiti e interpretati già con categorie esistenziali e analitiche storiche. Chirco era più giovane di Mussolini. Ricordo che Chirco era nato nel 1895, mentre Mussolini era nato nel 1883. Ma anche Chirco faceva parte di quella generazione che è stata ammirabilmente descritta da Robert Wall in un classico della storiografia intitolato 1914, storia di una generazione. Una generazione studiata da Wall in chiave transnazionale e Wall ci dimostra come tutti i giovani che fecero materialmente o come spettatori il 1914 in tutta Europa vissero l'irruzione del presente storia nelle loro vite come appunto un tempo storico. E fu forse questo a consolidare il loro ruolo in regimi politici che per la prima volta dopo la rivoluzione francese portavano elementi palingenetici nel campo della politica e mi sembra che anche per Chirco questo tipo di interpretazione possa essere valida. E d'altro canto è lo stesso Michelangelo che mi ha suggerito questo tipo di interpretazione perché a pagina 105 lui scrive L'attività del Chirco cronista del fascismo iniziò subito dopo la Grande Guerra raccogliendo documenti e testimonianze sul nazionalismo, l'irredentismo e la partecipazione del popolo italiano al conflitto mondiale col proposito, e qui borri cita Chirco, di narrare questo capitolo della storia d'Italia che come istriano più mi interessava e appassionava. Appunto è un presente storia sul crinale del passaggio dalla Grande Guerra alla fondazione dei fasci di combattimento. Torna fortissimo il tema della pedagogia di una nazione alle pagine 111-112 per esempio dove borri descrive le cinque categorie di destinatari dell'opera che erano state individuate da Mussolini nella sua prefazione alla storia della rivoluzione fascista. Le cinque categorie erano le vecchie camicie nere della vigilia chi si era avvicinato al fascismo dopo il 1922 le nuove generazioni che avrebbero dovuto trarre dalle azioni degli squadristi una ispirazione i cosiddetti smemorati che non ricordavano o fingevano di non ricordare il caos del biennio rosso e qui è interessante perché questa interpretazione mussoliniana della presa del potere del fascismo come reazione alle azioni socialiste è incredibilmente ancora oggi proposta da alcuni nostri colleghi per cui diciamo che qua possiamo vedere nelle parole di Mussolini un po' diciamo appunto una cosa speculare a alcune delle interpretazioni di Erne. E infine il quinto destinatario di questa storia della rivoluzione fascista era il pubblico estero. Con queste cinque categorie il Duce espandeva l'orizzonte pedagogico sia del suo progetto totalitario sia del progetto editoriale dell'opera che andava a introdurre e di fatto questo progetto pedagogico riguardava tutti escludendo ovviamente gli antifascisti che nel 1929 l'anno di uscita dell'opera non erano più contemplati all'interno della società italiana. Questi sono gli anni in cui il progetto pedagogico nei confronti delle masse da parte del fascismo ha un'accelerazione enorme soprattutto grazie all'opera nazionale Balilla e al ruolo di Renato Ricci. Sono gli anni della costruzione del foro Mussolini a Roma che è stato uno dei più importanti esperimenti di educazione di massa urbanisticamente e architettonicamente mai realizzato e che faceva parte proprio di quel più vasto programma educativo del regime che vedeva non solo i giovani ma l'intera popolazione italiana come l'oggetto della pedagogia stessa. Siamo insomma di fronte a un'unica grande storia cioè una storia pedagogica dell'Italia fascista laddove l'italiano diventa il soggetto antropologico da educare alla nuova religione laica della patria. Ora mi avvio la conclusione ma voglio fare velocissimamente accenno a tre ultime cose molto brevi. La prima è l'intreccio che emerge da questo libro tra una dimensione storico-politica e una dimensione geografica che è molto interessante. Noi potremmo parlare di un intreccio potremmo definire questo intreccio come una geografia del fascismo italiano di lunghissima durata quindi dalla fondazione dei fasci di combattimento al neofascismo. La vicenda politica e pubblica di Chiurco ed è stato messo molto bene in luce da Michelangelo è una vicenda che muove da terra il redente Chiurco era nato a Rovigno si sposta a Roma con la marcia su Roma si sposta nelle zone del fascismo agrario e torna a Roma laddove la capitale dell'Italia repubblicana è anche il centro nevralgico del neofascismo l'abbiamo visto con l'operazione del CESP e con i finanziamenti da parte dell'MSI quindi c'è questo rapporto fortissimo tra una dimensione geografica e una dimensione storico-politica del fascismo italiano. Il secondo elemento che vorrei mettere velocemente in luce è quello del rapporto tra biografia e autobiografia da questo punto di vista la premessa di Borri è a mio avviso un saggio molto interessante che potrebbe vivere di vita propria di metodologia storica che si situa perfettamente nella corrente che negli ultimi anni sta toccando un'ampia parte della storiografia italiana. Borri si interroga infatti sul problema delle biografie e della scrittura del genere biografico intrecciato all'oggetto della biografia. Ovviamente Michelangelo questo insomma ne abbiamo parlato anche in altri contesti ha davanti a sé un caso particolarmente fortunato perché non è che tutti i soggetti biografabili si chiamano Giorgio Alberto Chiurco e hanno queste caratteristiche di lunghissima vita sia politica sia biografica. Però Michelangelo a pagina 12 sottolinea lui stesso come furono gli stessi fuoriusciti antifascisti in Francia a riconoscere in Chiurco il prototipo del fascista militante e lo fa citando un interessante passo tratto da un articolo pubblicato nel numero 8 del 29 dello Stato operaio intitolato Una storia del fascismo ad uso di Balilla. Leggo la citazione di Borri Ecco qui un gerarca provinciale prima semplice gregario poi comandante di squadra poi segretario federale poi commissario straordinario in Maremma poi professore di università per meriti di guerra civile ma come si rappresenta egli il fascismo? Quale spiegazione si dà egli della propria fortunata carriera della propria vittoria della vittoria delle migliaia di cavalier chiurco che conta il partito fascista? Ora questo è un saggio un passaggio sul quale uno potrebbe scrivere appunto un saggio di 50 cartelle e sono certa che Michelangelo non l'abbia scelto a caso in questo in queste righe si inseriscono si inserisce un altro elemento cioè quello della rappresentazione autobiografica seppure in chiave controfattuale come si autorappresenterebbe l'oggetto della biografia se fosse egli stesso il soggetto scrivente della propria autobiografia è qui che dicevo Michelangelo si inserisce in questa tendenza storiografica nuova italiana che ha avuto una origine a partire dal 2021 presso la giunta centrale per gli studi storici sotto la presidenza di Andrea Giardina con questo fortunatissimo progetto dedicato alle autobiografie degli storici e delle storiche progetto diretto dallo stesso Giardina e da Roberto Pertici ed Edoardo Tortarolo che sta tra l'altro avendo un fortunato esito editoriale con una collana creata ad hoc per l'editore Viella in questo progetto l'autobiografia risulta essere l'esito dell'intreccio dello sguardo proprio autobiografico con quello altrui quindi biografico ecco mi sembra che il libro di Borri inverta i due elementi ma si inserisca metodologicamente in un genere biografico che non perde mai di vista uno sguardo seppur controfattuale autobiografico l'ultima cosa a chiudo che voglio dire di questo libro è che si tratta di un libro bello cioè è retoricamente bello è scritto bene io oramai alla mia età ho iniziato a recuperare categorie che nella giovinezza più spinta mi rifiutavo di abbracciare tipo le categorie del male e del bene del bello e del brutto e invece bisognerebbe recuperarle questo libro è molto ben scritto ed è importante in un momento in cui la storiografia scientifica è forse eccessivamente messa in discussione in discussione dall'esplosione dal culto della public history ecco questo libro dimostra quello che è sempre stato valido da quando esiste della storiografia cioè che si può scrivere un libro cosiddetto di ricerca scientifico con le note con i riferimenti archivistici e bibliografici in modo molto fruibile e molto godibile insomma si può fare storia e insieme recuperare una dimensione comunicativa divulgativa senza cadere in una ostracizzazione della storia cosiddetta scientifica e professionale che credo renda tutti noi vittime di noi stessi grazie allora buonasera io intanto mi scuso per il vergognoso ritardo a questo incontro ma purtroppo ho dovuto assistere a un anche molto interessante peraltro incontro ai lincei dove io non parlavo ovviamente ma che sentivo parlare gli altri però ero stato caldamente invitato ad esserci e quindi ho cercato di trovare una sorta di compromesso che vuol dire che non ho sentito la e ho danneggiato qui danneggiato non è che io arrivando in ritardo ho danneggiato qualcosa anzi forse è andato ancora meglio no mi è dispiaciuto ho danneggiato me stesso perché in realtà questo libro di Michelangelo Borri è concordo è un bel libro è un bel libro è un libro interessante da diversi punti di vista non soltanto da parte dal punto di vista dello stile ma anche dal punto di vista dei contenuti è un libro che si inserisce nel filone delle biografie classiche copre un arco temporale molto lungo è stato già detto e affronta ovviamente è costretto l'autore ad affrontare una serie di problemi cioè cambiano cambiano gli scenari ogni ogni dieci pagine diciamo no cioè l'uomo poi è estriano quindi c'è tutto il discorso del fascismo di frontiera quello quello teorizzato anche da Raul Pupo e cioè del fascismo triestino Rovigno non è Trieste ma è grosso modo la stessa cosa nel caso di Chiurco che a Rovigno poi non non abita più è un personaggio Chiurco sicuramente figlio di famiglia abbastanza modesta squadrista istriano e quindi con una forte capacità di identità e di contrapposizione con l'avversario dico questo perché il mondo triveneto soprattutto giuliano e istriano ed armata sono cucina di fascisti intransigenti per loro il fascismo è quello che ha inserito questi territori nell'Italia anche se poi così non è perché in realtà vengono dalla prima guerra mondiale però tutto quello che succede dopo e succede negli anni 30 ma dalle bonifiche alla lotta contro gli slavi in qualche modo è un segno positivo sia che loro siano lì o che siano andati via come nel caso di Chiurco c'è una interessante vicinanza al nazionalsocialismo che l'autore mette abbastanza bene in evidenza ed è una ecco tra l'altro Chiurco non fa parte di quei fiancheggiatori del fascismo liberal monarchico moderati no è un intransigente a tutto a tutto tondo e lo si vede nei momenti cruciali no della evoluzione del fascismo è un personaggio che ci crede è un personaggio ovviamente che crede in Mussolini anche se poi qualche volta Mussolini cerca di non dico liberarsene ma insomma di allontanarsene perché pure per lui forse era era troppo ma è un personaggio che ovviamente è redentista questo è inutile dirlo ma per esempio è redentista molto diverso da un Attilio Tamaro che anche lui triestino anche lui con caratteristiche molto simili però a un certo punto sulle leggi razziali e sull'atteggiamento con la Germania Tamaro non discute mentre invece ovviamente il Chiurco lo fa personaggio sicuramente io credo intelligente a suo modo personaggio che capisce le situazioni grazie che capisce le situazioni che cerca cerca di trarre dalle situazioni anche peggiori un vantaggio caso di Siena ospedaliera a mio avviso è un capolavoro cioè lui è in grado di trasformare un ridotto senese ormai concluso il partito fascista repubblicano a Siena non ha funzionato a livello di militanza non è Torino Milano Genova Savona che avevano sono posti nei quali anche per la prossimità con il fronte cioè è un conto di Torino dove chiaramente il fronte prima di arrivarci chissà quanti fascisti pensavano ai mesi che ci avrebbero messo ad arrivare da Cassino a Torino ma insomma a Siena si arriva molto prima e quindi c'è una obiettiva difficoltà e lui riesce con una notevole abilità a trasformare questa città in una città ospedaliera a trovare a trovare dei a stabilire dei rapporti con il mondo antifascista moderato e questo creando dei seri problemi al fronte antifascista creandosi dei problemi nei confronti di altri intransigenti fascisti ovviamente che avrebbero voluto ben altra tempra e ben altra e ben altro polso in quel momento quindi è un personaggio che si prepara già al dopo in qualche modo e si prepara al dopo aggiungerei non soltanto su io vado saltando perché chiaramente dovevo fare un intervento introduttivo ne faccio uno preconclusivo perché conclusivo lo farà l'autore ovviamente però cerco di non invadere insomma poi l'altra cosa interessante che combina è tutto il discorso e lì andrebbe io lì poi le do se posso e se mi permette ovviamente un suggerimento l'archivio nazionale di Croce Rossa io ahimè mi devo occupare anche un po' di quello perché come presidente della commissione storica di Croce Rossa però stiamo cercando di rendere fruibile l'archivio una cosa enorme c'è una palazzina intera piena di roba che pochissimi hanno hanno visto io sono andato una volta lì a vedere una cosa ho trovato un faldone e ho scoperto che quello che avevo scritto in un libro qualche anno fa era sbagliato e lo storico revisionista nel senso di rivedere non nel senso ovviamente revisionista nel caso del problema razziale è quello lì però ecco se tanto mi da tanto se il primo faldone che ho trovato mi ha dato questa sensazione o io ho avuto una clamorosa fortunaccia terribile è incredibile che poi in qualche modo pagherò oppure effettivamente quella roba è molto interessante e io credo che adesso stiamo lavorando dobbiamo varare un volume anzi io cercherò di informarla su questo dottor Borri perché vogliamo fare una cosa sulla un volume di Croce Rossa tra le due guerre mondiali compreso il problema del Croce Rossa Nord e Croce Rossa Sud e dato che lui è responsabile su lui si occupa anche di IMI tenga presente che nell'archivio di Croce Rossa c'è un intero bancale solo sugli IMI quindi insomma sono sono argomenti che sarebbe interessante ovviamente come diceva la collega fare in qualche modo sviluppare a lui o a chi per lui ma insomma sono temi dai quali partono tante tante cose ora io però ho anche un po' di cose da da segnalare come cose che diciamo mi sono piaciute di me ah poi anche il discorso del neofascismo è un discorso molto interessante e su questo discorso del neofascismo io però vorrei dire soprattutto alla collega Salvadori che che noi non ho sentito il suo intervento quindi non non posso coinvolgerla nella se vuole la coinvolgo non c'è problema noi giustamente giustamente lei si lei si stupisce e se vogliamo anche si scandalizza è anche lecito no? su questo su questa presenza no? del neofascismo o del vecchio fascismo nell'Italia repubblicana però io vorrei dire cerchiamo di non cascare un po' dal pero su queste cose nel senso che l'amnistia Togliatti a un certo punto che cosa fa? reintroduce i fascisti nella società e Togliatti non lo fa a mio avviso perché per quei 200-300 partigiani che l'amnistia riesce a salvare da azioni di guerra o presunte tali diciamo così non esattamente incommiabili lo fa perché Togliatti che non è stupido sa benissimo che in questo momento e cioè nel 1946 l'Italia non ha di fatto una classe dirigente e allora l'idea di poter recuperare anche con un gesto di questo tipo il mondo fascista noi sappiamo quali sono stati i contatti tra Paietta Togliatti e il neofascismo il recupero di molti della decima mass della Repubblica sociale quindi c'è un'azione di recupero ovviamente recupero non vuol dire che poi quelli erano rimasti fascisti ma recupero ovviamente cambiando segno ma direi anche di più a tutti mentre io sto parlando di queste cose sicuramente a tutti viene in mente il nome del Presidente del Tribunale della Razza no Gaetano 72 anni non vengono per niente io vi avverto e ogni tanto ci sono questi lapsus queste spine che si tolgono mi verrà in mente Azzariti Gaetano Azzariti è il Presidente del Tribunale della Razza dal 1937 al 1943 ed è quello che deve fare una cosa tra le più ignobili che si debbano fare e cioè certificare a livello di Tribunale che il signor Levi Abramo in realtà non è figlio di suo padre di sua madre ma sua madre ha avuto una relazione con il signor Francesco Rossi che è notoriamente ariano puro e quindi lui diventa improvvisamente ariano è un'operazione tra le più squallide che si possono immaginare perché si legalizza attraverso un procedimento di carattere legislativo giudiziario pardon una una persecuzione il signor Gaetano Azzariti è il Presidente di questo Tribunale dal 1937 1038 scusate fino al 1943 dopodiché diventa Ministro della Giustizia nel primo governo Badoglio e dopodiché Togliatti lo prende come consigliere politico al Ministero di Grazia e Giustizia ed è lui che prepara le leggi no? perché Togliatti non è un giurista e lui dice sì ma Azzariti è bravo e così io me lo prendo sarà il primo Presidente della Corte Costituzionale in Italia noi il primo Presidente della Corte Costituzionale abbiamo avuto l'ex Presidente del Tribunale della Razza voglio dire no? cioè se noi entriamo in questa ottica possiamo andare avanti fino a domani mattina a parlare di casi di persone che hanno servito fedelmente il Duce e hanno subito dopo cambiato casacca almeno formalmente qualche volta i mezzi i metodi non sono cambiati troppo ma noi abbiamo avuto dopo la guerra una continuità il saggio di Pavone su discontinuità e continuità della storia d'Italia ce l'abbiamo tutti ben chiaro credo quindi io dico sì Chiurco io non credo per esempio e mi consenta questo piccolo questa piccola non condivisione io non credo che il discorso razzista continui nel dopoguerra così come quella citazione che lei ha fatto che è una citazione che viene dal 1933 o 34 se non ricordo male di Chiurco e nel termine razza come sappiamo bene è un termine elastico prima razza fino al 37 o fino al 36 fino alla guerra d'Etiopia sostanzialmente quindi fino al 35 se vogliamo indica soprattutto nella pubblicistica medica e nella pubblicistica giuridica e nella pubblicistica aggiungo sindacale indica la tutela della salute della etnia dell'identità nazionale razza non è alternativa a nazione dopo il 1936 35 il discorso cambia radicalmente razza assume un altro significato e sono poi magari gli stessi che usano il termine razza in un modo piuttosto che in un altro e dopo la guerra non la vieta che si torni a un concetto di razza diverso lei citava la schedatura etnica DNA eccetera della popolazione italiana fuggida a impedirla in qualche modo ecco anche qui io questo sono d'accordo con la professoressa Salvatore per quanto riguarda il fatto che l'amico dottor Borri vada avanti nelle sue ricerche forse avrebbe a mente ne sarebbe molto il rapporto con Gedda per esempio che tra l'altro sto studiando per questo sono curioso però che questo mondo cattolico moderato si prenda i fascisti e in qualche modo se li gestisca o che questo mondo comunista come Togliatti si prenda i fascisti questo è un fatto del quale a mio avviso noi oggi non ci dovremmo più stupire perché fa parte di una fisiologica continuità da uno stato totalitario o dittatoriale a uno stato democratico perché obiettivamente vista il radicamento che il fascismo aveva nella popolazione italiana pensare che dopo la seconda guerra mondiale i 1500 fu riusciti di Parigi potessero prendere in mano la pubblica amministrazione italiana e gestirla penso sia abbastanza improbabile ecco quindi questo direi senza nulla togliere ovviamente questo discorso che io faccio e poi penso che devo anche smetterla ho lasciato il cellulare nel cappotto e quindi fatemi dei cenni non tiratemi nulla ma insomma qualcosa fatemi capire che è la loro che la smetta c'è un altro aspetto del problema che a mio avviso è collegato a questo e qui usciamo un attimo dal libro di Borri di cui io non posso che dire bene perché è aperto tutta una serie di canali che sono già stati rappresentati e venuti che mi ripeto il problema è che spesso quando noi ci scandalizziamo sulla questione della continuità e ci scandalizziamo che ci siano ancora dei razzisti in Italia nel 1950 o addirittura 60 razzisti che sono poi che erano razzisti e che adesso non propongono più l'eliminazione degli ebrei hanno capito che non è più il caso se non altro ecco noi dovremmo evitare di moralizzare il discorso storico adesso dico una cosa che molto probabilmente non tutti condivideranno ma questo fa parte del nostro mestiere anche a un certo punto cioè quando noi cerchiamo io vedo molti libri di giovani che si occupano di neofascismo è una cosa nuova io ne sono molto contento perché obiettivamente grazie un po' alla fondazione Spirito dei Felici abbiamo raccolto un po' di carte abbiamo fatto in modo che questo tema che era assolutamente proprietà dei politologi e dei sociologi sia diventato proprietà di nessuno ma insomma sia stato messo a disposizione anche degli storici però tante volte mi succede di vedere e lo osservo con molta tenerezza senza nessun giudizio negativo il giovane studioso che premette o conclude l'opera dicendo sì io mi occupo di un pericoloso fascista come Churco adesso faccio un esempio però io voglio ribadire la mia dichiarazione antifascista totale ora se io scrivo su sui sui briganti del risorgimento io non è che devo premettere che io sono un risorgimentista posso anche dire che se mi è laureato in storia del risorgimento però però non serve a nulla no mentre invece questo a mio avviso diluisce un po' sia la credibilità dell'autore sia la capacità dell'autore di riuscire a essere completamente libero da condizionamenti è una questione psicologica ora lo dico perché in qualche passaggio del libro come sul discorso wikipedia tanto per fare un esempio messo all'inizio mi dà l'idea che la motivazione per avere fatto questo libro che poi tra l'altro è un libro ripeto molto più impegnativo e molto più serio che rispondere alle manomissioni che la destra estrema o non estrema può aver fatto su wikipedia a proposito di chiulco però questa è una ragione di carattere civile attenzione a non farla diventare il motivo della storia perché altrimenti diventando il motivo della storia quella stessa storia seppure ben fatta seppure fondata sui documenti seppure precisa come nel caso di Borri finisce col diventare un po' depotenziata e finisce con l'essere un po' un'abitudine io ricordo una persona che ha scritto un libro sul fascismo e nella prefazione concludeva sì ma la mia famiglia è tutta antifascista e mi fa piacere ma perché uno lo deve dire no? svilisci anche il discorso il rapporto con la tua famiglia in questo caso perché lo strumentalizzi in qualche modo questo è un po' un vezzo che oggi c'è e che a mio avviso non dipende dalla scarsa intelligenza dei dei giovani studiosi quanto da un altro fenomeno la presenza dei social la diffusione del pensiero in maniera molto rapida la banalizzazione la semplificazione dello stesso pensiero storico fanno sì che uno si trova nella condizione di dire sì questo qui chi lo leggerà mai ma io devo dire però che sono antifascista subito perché almeno così mi paro le terga e non ci sono problemi ora noi dobbiamo a mio avviso lo dico da 72enne nei confronti di un giovane studioso a mio avviso valido e promettente noi dobbiamo avere il coraggio delle nostre ricerche al di là dei condizionamenti di carattere ehm politico no? o ideologico perché altrimenti altrimenti noi non riusciamo a costruire una storia che sia non condivisa è una cretinata non me ne frega nulla ma che sia propositiva di un messaggio che possa far capire come sono andate le cose noi dopo la lettura del libro di Borri noi siamo riusciti a capire che cosa ha fatto Chiurco non solo ma abbiamo capito anche che cosa è successo attorno a Chiurco allora questo ci sta da solo deve stare da solo non c'è bisogno che ci siano delle impalcature poi se uno ha una idea non necessariamente in un libro di storia la deve introdurre lo deve sbandierare perché questo la depotenzia ognuno degli storici ognuno di noi qua ha una sua idea politica è ovvio no? e meno male che ci sia almeno che qualcuno abbia ancora delle idee politiche ma noi se la infiliamo nei nostri libri depotenziamo la nostra idea e depotenziamo contemporaneamente i nostri libri tutto lì poi ognuno viene da una storia da un'esperienza da una famiglia che lo ha segnato è chiaro che le storie sono diverse quindi detto tutto questo il mi è devo dire il libro torno a dire mi è piaciuto la storia della rivoluzione fascista è una storia lo ha detto prima Paola Salvatori in maniera molto molto precisa è una storia pedagogica no? è una storia pedagogica però vogliamo anche dire e sottolineare che uno storico come Gioacchino Volpe ha preso le distanze da questa cosa cioè non tutto il fascismo sarà stata pedagogica pure però il fascismo e lo dice Borri in una delle prime pagine questa questa biografia di Churco se non ho inteso male dimostra che il fascismo non è monolitico no? c'è un punto dove lei dice questo ed è così ed è effettivamente così il valore di questo lavoro è anche su questo l'opera di Churco non si è filata a nessuno a un certo punto sì è vero che l'abbiamo guardata a livello di studio lo dice a me che ho il doppio dei suoi anni almeno il doppio se non di più certo è chiaro era l'unica cosa che c'era si doveva andare a sbattere su Churco comunque però non è mai stata un'opera citata se non in negativo nelle grandi ricostruzioni della storia del fascismo a cominciare alla De Felice che la strapazza abbastanza pesantemente quindi pedagogica sì non diamo a mio avviso troppa importanza se non a quello che rappresenta in sé è una versione mitizzata peraltro lui è anche antimonarchico quindi certe cose non le coglie non le capisce ecco la mia la mia considerazione tornando un attimo al discorso di prima è che lui è un intellettuale militante sicuramente è anche un intellettuale funzionario vogliamo fare la storia degli intellettuali militanti e funzionari dopo la seconda guerra mondiale credo che abbiamo molto avremo molto da dire no? gli intellettuali militanti e funzionari c'è una continuità tra Giovanni Gentile che teorizza che l'intellettuale deve scendere per strada e non deve stare più dietro alla finestra e quello se voi andate a leggervi come sicuramente da studiosi appassionati di storia avrete letto quello che il parito comunista scriveva in ordine all'intellettuale e stiamo parlando di qualcosa che va avanti fino agli anni 60 compresi quindi è un fenomeno grosso quello dell'intellettuale militante che riguarda il fascismo anzi forse riguarda poco il fascismo perché per tanti motivi il fascismo poi non ha il rigore scientifico che ha il militante comunista nello scrivere di scienza a livello storico e a livello filosofico a livello letterario ma chi ha interpretato di più nell'Italia del dopoguerra con un passaggio gentile Gramsci con relativo recupero del risorgimento da parte di entrambi è stata la sinistra del partito comunista che ha ritenuto che l'intellettuale militante fosse una delle colonne della nuova società e questo lo credeva anche il fascismo non è che ci dobbiamo preoccupare di troppe cose cioè anche il fascismo riteneva che l'intellettuale fosse la colonna della società c'è riuscito? a mio avviso no non c'è riuscito primo perché non sono riusciti i fascisti a creare una struttura di pensiero così solida come invece l'ideologia comunista permetteva ma anche perché la presenza della chiesa e la presenza della monarchia in qualche modo hanno fatto sì che questo progetto che poi è il progetto totalitario pur evocato pur rincorso pur esaltato non si a mio avviso non si realizzasse appieno neanche quello comunista si è realizzato appieno però quello comunista è riuscito a penetrare nell'ambito della cultura in maniera molto più seria se noi ci andiamo a leggere la cultura se noi ci andiamo a leggere le riviste del palito comunista ma le stesse terze pagine dei giornali quotidiani vicini al palito comunista noi troviamo fior di firme e troviamo intellettuali militanti qualche volta intellettuali funzionari ecco quindi anche questo fa parte di un lascito del novecento se vogliamo io sono fresco da questa presentazione del libro del carteggio tra croce e gentile che c'è stata ai lincei beh se vogliamo parlare di chi è il responsabile di questo modello dobbiamo andare a Prezzolini alla voce perché Prezzolini alla voce hanno introdotto l'idea dell'intellettuale militante e come più volte ha detto Prezzolini la voce ha creato sia il fascismo che l'antifascismo perché in realtà la metodologia è stata sostanzialmente la stessa con ovviamente segni e caratteristiche completamente diverse ma il metodo cioè quello di avere un governo un governo della cultura e avere soprattutto una rivoluzione culturale nel paese queste sono due cose che hanno accarezzato sia il fascismo che l'antifascismo non parla di riforme parla di rivoluzione rivoluzione che nel caso di Chiurco di cui è rappresentante in qualche modo è anche una rivoluzione culturale ecco tutto questo per dire come il libro di Michelangelo Borri ci suscita e ci suggestiona cose a mio avviso interessanti che ci portano anche lontano dal discorso Chiurco concordo con la collega che il libro è stato scritto molto bene si legge bene e l'unica cosa che si può augurare a Michelangelo Borri è di continuare a scrivere in questa maniera approfondendo quello che credi ho già letto una cosa sua sul neofascismo in Toscana quindi non è stata una novità per me ero già preparato a un lavoro di ottima fattura e quindi credo che non abbiamo altro che rallegrarci e soprattutto sottolineare come questo libro ci possa portare a riflessioni che vanno lontano allora intanto spero si senta io con non poca emozione devo confessare intanto ringrazio la biblioteca, la direttrice voi che siete qua presenti e poi chiaramente chi ha accettato di venire a discutere il mio libro oggi, Andrea Mammone Paola Salvatori Giuseppe Parlato, devo dire che a Paola devo un ringraziamento doppio perché è stata lei a suggerirmi, a spingermi a provare, a proporre il mio lavoro alla biblioteca quindi io cercherò di non rubare troppo tempo presso alcuni appunti sarebbero tantissime cose da dire innanzitutto partirò proprio dall'idea del libro e lo faccio recuperando un po' quello che diceva il professor Parlato, cioè su come gli studi sul neofascismo siano ancora guardati all'interno almeno della comunità degli storici con questa aura di sospetto sicuramente anche Andrea Mammone potrà confermarlo ne parlavamo proprio anche con un collega che è coetaneo più o meno mio che si occupa di questi temi che troviamo in qualche modo quanto meno strano che sia necessario sottolineare quando ci si occupa di neofascismo che prendiamo le distanze da quello che studiamo quando questo non avviene per esempio per chi studia il fascismo però forse questo è dovuto non so anche al carattere di maggiore novità che lei sottolineava di questi studi rispetto a quelli più consolidati sul fascismo detto questo la mia domanda di ricerca nasce proprio da Wikipedia come aveva indovinato Mammone senza ovviamente l'impegno civile nel senso senza la volontà di dimostrare tesi preconcette ma anche pensando forse con un po' di ingenuità se ancora posso permettermela che la storia debba servire a qualcosa di più al di là dell'accademia e questa insomma è la speranza che ovviamente ho e che mi motiva anche nel mio lavoro devo dire poi che la biografia scrivere questa biografia che nasce dalla mia tesi laurea magistrale all'università di Pisa peraltro con il professor Gianluca Fulvetti è stata anche una formazione un'esperienza formativa importante per me mi ha aiutato innanzitutto ad approcciarmi proprio allo studio della storia in maniera diversa quindi non più partendo da ragionamenti relativi alle tematiche ma anche in qualche modo da un ragionamento di lungo periodo come diceva la professoressa Salvatori tenendo presente che la storia è fatta di uomini e che questi si muovono su piani diversi quindi mentre un approccio magari più tematico ti porta ad analizzarne a concentrarti su di una a seguire quella invece la biografia ti costringe a seguire le vicende umane laddove queste ti portano e ricollegandomi in parte proprio a quello che diceva il professor Parlato mi ha fatto anche ragionare su quanto sia difficile parlare di fascismo quando si va a confrontarsi con i personaggi laddove ci si aspetterebbe in maniera un po' forse come dire volendo banalizzare di trovarsi di immaginarsi il fascista e rappresentarsi il fascista come un individuo malvagio se mi permettete di utilizzare questo termine sicuramente non scientifico non storiografico quando invece è normale che emergano persone figure biografie più complesse laddove le vicende umane sono complesse per loro stessa natura e quindi abbiamo appunto un chiurco che è squadrista ma che è anche medico abbiamo un chiurco che durante la Repubblica Sociale Italiana a Siena fa deportare e inviare nei campi di concentramento in Germania l'Ebrea Senesima che dopo a distanza di pochi mesi si trova ad aiutare gli internati militari italiani che si trovano in quegli stessi campi detenuti è una persona violenta ma anche un docente universitario che formerà non è che sia proprio così essere violenti professori universitari non è no no nel senso no però in quanto medico se vogliamo provare a bilanciare avrà contribuito certo certo quindi ecco come dire è normale che ne emerga una biografia sicuramente tendente più al nero che non ha il grigio ma che ha una sua una propria complessità come come è lecito aspettarsi il chiurco stesso si rappresenta per quello che ho potuto vedere e trovare nei documenti che sono riuscito a rintracciare come una brava persona in fin dei conti lui non riflette mai quantomeno ripeto pubblicamente sulle proprie responsabilità anche in maniera magari con un pizzico di autocritica e diventa forse anche per questo più facile rappresentarselo come un fascista dal volto umano come riprendendo una definizione di Sergio Luzzato no ci sono elementi chiaramente per una riabilitazione di questa figura sia perché si distingue rispetto a rappresentazioni a loro volta sbagliate e stereotipate che tentavano rimettere in luce solo gli aspetti più grotteschi del fenomeno senza provare a spingersi in qualche modo oltre Chiurko è sicuramente uno di quelli che ci credono nel fascismo nella rivoluzione fascista lui prova anche a spingersi oltre lo fa a Siena nel breve periodo in cui diventa federale negli anni venti ma viene immediatamente messo da parte e forse in quel momento realizza anche che la rivoluzione poi di cui tanto scriverà non si è concretizzata fino in fondo oppure in realtà scrivendo il contrario nei suoi volumi perché poi non ho sviluppato di più alcuni passaggi allora innanzitutto se posso per necessità editoriali perché rispetto alla mia tesi di laurea questa non è ovviamente una giustificazione ma per preparare a dare un quadro più completo era circa il doppio come lunghezza rispetto a quello che poi è venuto fuori nel volume quindi ho dovuto chiaramente cercare di proporre un prodotto leggibile per il pubblico tagliando alcune parti che effettivamente erano ridondanti e che possano star bene in una tesi di laurea ma non poi in un prodotto che ripeto l'augurio è quello che possa essere letto e circolare e anche perché onestamente per quanto riguarda il dopoguerra la mia conoscenza del periodo che poi ho avuto modo di affrontare meglio di approfondire durante i miei studi dottorali ancora non era forse sufficientemente solida alcuni passaggi anche quelli a cui faceva riferimento la professoressa Salvatori sul CESPRE anche sulla dimensione internazionale e transnazionale di questi contatti mi sono reso conto insomma delle potenzialità e del loro interesse soltanto in un secondo momento per quanto riguarda gli archivi l'archivio della Croce Rossa io provai a consultarlo avevo anche visto dell'inventario online da cui si vedeva che ci sono dei materiali che proprio riportano la firma relazioni di Chiorco ma ancora prima del covid non era possibile accedere perché in fase di riordino provai anche a contattare l'archivio della Croce questo è quello che mi fu detto diciamo provai anche con l'archivio della Croce Rossa internazionale a Zurigo ma non potendomi inviare per regolamenti interni loro degli inventari da consultare prima e dovendo andare quindi in presenza per una tesi di laurea magistrale insomma questo lo esclusi mentre invece delle carte interessanti ci sono nell'archivio Vaticano che di fatto è diventato consultabile dopo il covid che ho visto e soprattutto ci sono delle relazioni che Chiorco scrive dopo aver visitato Dachau la guerra immediatamente finita e nelle quali ripropone una rappresentazione che lascia onestamente molto sorpresi cioè lui descrive le camere a gas descrive lo stato in cui questi prigionieri si trovano ma di fatto poi inizia ad affermare che comunque le voci che circolano sono state in qualche modo ingigantite dalla come dire dal loro stesso sovrapporti le presenta più come delle storie quelle relative allo sterminio degli ebrei che non alla realtà pur essendo stato di persona in quegli stessi luoghi ed averli visti con i propri occhi quindi c'è proprio una formazione una predisposizione di un individuo che evidentemente nel fascismo aveva investito e si era riconosciuto così tanto a non riuscire forse a nemmeno a rendersi conto ad accettare per primo quello che poi Chiurco stesso è stato in qualche modo corresponsabile e ha contribuito a produrre oltre ovviamente a una certa dimensione relativa al tornaconto personale di un individuo che in quel momento si rende conto che ci sono dei processi ad aspettarlo immagino e comunque un percorso non facile che lo attendono per quanto riguarda l'aspetto della continuità io provo invece a dire due parole su un'altra questione che trovo importante e che è rimasta un po' fuori dalle due che avete sollevato e che è quella diciamo dell'esistenza di una parte sana se mi permettete questo termine del sistema cioè la notizia del reintegro di Chiurco all'università a Roma comunque porta a una risposta dell'opinione pubblica intanto laddove si muovono con ordini del giorno i comuni della provincia di Siena che avevano conosciuto il volto violento dello squadrismo prima e poi del fascismo repubblicano dopo si muove l'associazione nazionale chiaramente partigiani d'Italia si muovono anche figure importanti dell'universo culturale del dopoguerra da Ernesto Rossi a Giovanni Berlinguerra a Nuccio Bianchi Bandinelli di Fiero Calamandrei Giuseppe Levi Mario Bracci che in qualche modo innanzitutto denunciano attraverso la stampa l'opinione pubblica quello che era successo che chiaramente non era un caso isolato come sappiamo dall'altra parte portano sì Chiurco viene sì reintegrato nell'insegnamento come posizione addirittura diventerà docente universitario mentre prima era l'equivalente di un docente associato sì ad incarico però in realtà non gli verranno più affidati dei corsi lui viene gli vengono affidati degli incarichi di ricerca proprio per non metterlo più in aula con degli studenti già questo insomma può essere considerato un risultato se vogliamo in un certo senso quindi c'è comunque una mobilitazione della vita pubblica e culturale italiana e questo è un aspetto che studiando adesso gli anni settanta mi sembra si tenda spesso a mettere in secondo piano avvantaggio invece degli aspetti più negativi se vogliamo delle compromissioni degli errori quando si tratta di dare un giudizio sui meccanismi che hanno poi portato all'affermarsi dell'Italia repubblicana della democrazia nel nostro paese e a cui faceva riferimento anche il professore riguardo alla necessità di recuperare inevitabilmente una parte comunque del mondo intellettuale che era stata fascista o che comunque si era formata e aveva trovato una propria posizione nel contesto del fascismo quindi io non ho in realtà altro da aggiungere essendo stati tanti cioè avrei molto in realtà da aggiungere ma ritengo che i tre relatori abbiano già detto quello che ci poteva essere da dire quindi rinnovo di nuovo il ringraziamento e ringrazio anche per gli auguri che mi sono stati rivolti grazie a questo punto credo che ci siamo detti tutto quindi grazie dell'attenzione grazie ancora alla dottoressa Rusciani e alla biblioteca di storia moderna e contemporanea e alla collaborazione che l'istituto ha sempre con questo importante prestigioso e alla prossima buona serata grazie